bello a tutti ragazzi benvenuti nel diciottesimo episodio di The Hyshaw O'Giornal io sono Fido e sono Mimmo oggi andremo di qua esploriamo questo cubo strano come vedete siamo dietro l'isola del nether che vediamo abbiamo già fatto il puntillo perché sennò era noioso fare ho dato un po' di legna pasta esploriamo questo cubo qua e poi andiamo in quel isolotto ma il fai un blocchetto io direi dalle esperienze passate salire in cima e fare la luce che poi sicuramente è pieno di gente iniziamo a vedere oddio lava ecco non piano perché ah forse fa ho fatto benissimo benissimo a salire perchè qua se no gustati e rompilo spu no 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 se un coglione ha aperto la lava chi tappa tappa no uff ma la lavita può rompere i blocchi edzio al cesto ma poco con la cesta forse non lo so no l'etapa adesso lo faccio si ma anche la lava non rompe sicuro sicuro ok tu scegli rompi il blocco di cose e si riesce a dare aspetta scusi un secondo la cola sicchia ma certo no, quando è storto non si grazie adesso non si sta chiudendo io no, non mi punto io si muti troppo il tuo sporo prima di tutto e poi devi tapparla guarda qui aspetta aspetta apriamolo davanti così calmo guarda se la posti appartito non lui niente chiacca il bar aspetta aspetta questi materiali ecco la cista ho capito io marco qualche ma questa è una bestia assolutamente potente lo mettere in access via io dopo perchè abbiamo due arti e basta uno poi abbiamo due cibo ferro access sul sentiero e la tavolissima subito basta questo è finito è un dungeon carino c'è un certo modo è interessante è come piace a noi perchè qua fa c'è un pochettino cosimale sento per tutto che fare lasciamo qui vai no, metti un blocco di di legno più in quale mettilo nella cesta di legno guarda oggi è particolarmente palloso chi è diventato troppo signato prof scherzo guarda sculta materiale 4 anche il legno 6 e basta costo mi lascia fa parte a me dc per via rosa 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 martedì mattina come al solito se non se non se il computer non ci va in balia ecco io devo bere però come va ci vorrebbe una cannuccia così sto facendo basta sei scemo mi fai saltare il dito la 1.8.1 di minecraft che hanno sciolto solo dei bug fix e nient'altro che ancora noi non la usiamo perchè è una pre-release adesso la mucca vai parlando reale parla 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 tutela lo porto credono box forza scritto arraggio sono i batici scuettivi rischi perciò la vanta lista eb지를 santo ok ma basta top americ non è scusica scopi ma sconf ma di un pochettino un pochino cretato esploriamo che c'è qui la città no basta la mia cascata no si spagna spesco spiare chi mi trovo che ci siamo buonasera via giocattano non è carocca spazio amicinare attenzione non ammazzare il suo animale dico tanti occe non ci sono, bene oh a domestica lì non c'è pesce devi trovare un cane e adesso la tua ragione di vita gli animali che ci sono e adesso la tua ragione di vita è trovare un cane dobbiamo fare bricciola assolutamente c'è una bricciola di giurare prendi tutto ok resta tutto carbon madonna mia roba si fai di tutto tanto con la sua espansione di metà un minuto ma sono c'è si sono c'è stata trappola non c'è signor ti devi non c'è nessuno con costi.it capo finché puoi i segni no se proprio sono ampun allora aspetta decidi cosa lasciare lascia erampicanti no possiamo decorare questi allora scusate se torni alla tua cesta no bravo devo ragazzi il bottino che c'è in stisola perchè c'è la carne di bo? la carne di bo mi piace mi piace molto perchè c'è buscina di bobo paura c'è qualcosa sotto sicuro nel senso solo bottino gli animali si stisola facciamo degli allevamenti proprio tempo su su questa e su quell'altra però di maglia non ci serve da bb scuocca di essere anche più buona no non lo voglio di ammazzare allevare dare da mangiare c'è voglia le angure valli rompi e fa da soli e danno uno è uguale però ne parli a miliardi a volte poi strinta voglia le angure come l'esplosione in caverna angure per due vite ok basta no sotto saranno caverni miss caverni miss io ho tre cuore posso mangiare tre cose mangiare una costretta e abbiamo fatto riceviamo all'inizio con ieri a bucare la terra l'oro credo che ti fa il bottino come vuoi a video ci sono gli diamanti possiamo fare un obiettivo di diamante oggi si è da tanto come facciamo gli bb perché col tempo opererà poco tempo per qualcosa eh si non ciò a fare non tagliare invece i bt sono importanti si sono importanti i bt basso no ma prendi tu prendi tutto i semi no quattro stocchi di semi cioè a casa se non servono e non servono e non servono e decorano le scelte dei carri dei carri dei carri ok si è solo ritornare no 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 ok no 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 non credo ci sono un attimo sandokan 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 a fare più replicanti sì però deve essere un blocco dietro dai ci vuoi fare metti un blocco sotto parkour estremo il parkour in giuna quando è il coperto di legno ci può fare giù ci abbattiamo a deforestare a fare gli ecologisti mamma contro la legna ben salto io appasso la legna e appasso la legna no solo legna testo e chiamo non ma che parla assolutamente no la parola c'è che si tratta no che cazzo la rama sinistra consigli guarda cosa la visione come con il risultato il popolo dai 2 ingegno 5 10 6 6 6 secondo me un pollo non ci sono un'intercita alliemento il punto non cerca di bloccarlo tanto non si duterà come è scemo basta è un pollo bene bene l'entrata ma basta parlare di queste cose molto grandiose beh se qualcuno vuole un video faremo un video su come noi editiamo ma si si può fare oddio non facciamo niente di così strano complicato si più avanti più avanti più avanti più avanti ma io non te lo consiglio che cazzo un blocco a caso poi strafigo la scritta una scritta una scritta oh a me senza non si può esserci niente certo poi ci vorrebbe un po' di trenti fai scoppiare tutto si a meno così ma ste isole non lo so siamo tanto semplici mancano ancora un po' di minuti abbiamo nove più cinque andiamola no 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 un'altra isola proprio ok ok tanto qua non si metteci e se andiamo a pescare dai pescao facciamo il gattino dai dai è bene l'idea dai dai poca strontate rischiamo che cazzo fai faccia faccio vedere il il secondo po' da po' mela è bene il cazzo eh no dai eh bene bene ti sta incastrando una foglia basta tranne la carina pescare cilaghetto facciamo il lagor prendiamo niente tipo no ce l'abbiamo niente ora di annoiamento assurdo perché noi che scaviamo non noi che peschiamo no che scaviamo qua può essere un'altra isola di legno qua ci sono i punti visi a prendere il legno non ce l'abbiamo il legno premie premie come uguale è uguale l'ho detto si dice premie 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 non c'è basta non voglio un po' di palio non voglio le ponte le ponte non sono buone lo spiace adesso la sgorulle poi c'è la con testa che no ho dato un indizio cazzo sono un idiota perchè perchè forse adesso capisco cos'è cos'è e te lo dico e te lo sai quando saremo a 500 iscritti dico 500 no 500 vi diremo cos'è la valia se ma ci arriveremo no facciamo 100 500 vi diremo cos'è la valia questa è una promessa ragazzi un paio una promessa a 500 iscritti anche se non so mai ci saliremo non ci arrivo mai per uguale questo è un bello no vi diremo anche se avete già capito vi diremo che cos'è la valia vabbè capito perché maestro che ha detto che la valia è la fanta no 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 forse si nella fanta non è la fanta non è la fanta forse un po' nella fanta non è la fanta io non so cosa la valia sinceramente la valia è una cosa misteriosa è una cosa che più c'è meglio beh sì più c'è meglio veramente potrebbe essere così sicuro no no si compra al supermercato e tutto si compra al supermercato appunto un genio per cui le fa un bel indizio potrebbe essere qualsiasi cosa dalla cioccolata calda alla fanta all'acqua alla coca cola potrebbe essere qualsiasi cosa lo shampoo lo shampoo è bene lo shampoo eh potrebbe essere anche il vino perché uno va in balia ma no si capisce il caffè il caffè il caffè infatti noi siamo in balia siamo molto molto sprintosi cazzo usa la cobblestone il caffè ginseng no? il caffè ginseng no? il caffè ginseng lui è un amante quindi potrebbe essere ma anche no il caffè ginseng il caffè ginseng la persi pepsi il schifo un po' leam si consente media della PC ma la finora si pd c dire che buona la fanta del panciata della coppia buona però comunque scuola c'è più buona giocci c'è a me non piace la spremuta d'arancia però scuola c'è più buona quando ero piccolo e sono arrivati racconti infanzia bai fido quando ero piccolo poi c'era mio nonno che aveva l'orto prendeva d'arancia il robot dove tu quei macchina dove fai e spremi e faccia le spremute poi arriva mia nonna e dice ah oggi fa tante cose quindi dovete far merenda meglio cugino piadina con nutella e morte piadina con nutella e spremuta d'arancia e morte adesso la morte arriva la merenda più buona più buona piadina con nutella piadina con nutella c'era una merenda non so non so un frutto no 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 una piadina con nutella piadina con nutella e non vanno facendo la spremuta d'arancia c'è proprio un bene peristorio e vabbè con i guadino giocavamo casini totali la baletta più buona si dai la spremuta d'arancia è più naturale però troppo inizio no che sanso ci siamo ragazzi l'inverno tanto per parlare non c'è niente di meglio che una cioccolata calda però l'inverno freddo eh non l'inverno pesa cos'è strumento che succede vedi un po' di torce e chiuditi dentro oh cazzo ma che sono degli occhetti io ho chiamato tutto con te frida mia c'era mi trova tronzo ah grazie senza gli sberanti no dai prendi anche i cosi per attaccare le cose possiamo stare per decorare le ceste no ci siamo per fare per le ceste no per mettere per fare la mappa film la mappa si ma è vero ti riprendi tutto che ha fatto tutto tutto ci sono alcune città d'italia dove bisogna viviamo noi dove l'inverno non fa più tanto freddo invece la carta va avuta quando fa freddo che esci di casa con giubbottone la neve adesso ragazzi la sciarpa scusami la prima vuoi fare un giro adesso basta parlare adesso gianguola non possiamo andare anche la colpia con cui ci siamo sempre più allontano dall'isle ma guarda alb non che schifo che schifo quasi interessante che schifo no interessante interessante non ti schifo no dai concetti no no l'unico buono è secondo me questo ma scusa è questo se ci mancassero dei blocchi di sberado sappiamo da chi tornare scusa ma guarda un attimo tu gli dà il carbone il mercato lo scambio ti d'oro armi d'oro armi d'oro diamante eh diamante scusa cazzo guarda l'armi di diamante oppure i blocchi di diamante è molto utile invece ma non so così ce ne verrebbero due le altre beh c'è molto amicchiettato per ora c'è c'è altro qui però c'è gente un bel po' eh è sotto la gente scava si da qua ok prima facciamo il libro Mark Blacksmith sarà il villager tipo sta il nome del villager welcome per uscire sul negozio di crab dell'isola io sono Blacksmith il mio nome è Mark chiamato Mark io ho ho forgiato many great waypoints in my ah ho fatto ho forgiato tante le persone hanno tagliate alla pareti in poche parole e li ho messi eh sul muro eh si sul muro tu per farli per farli vedere well bene io non non ho molti visitatori tu sei il primo visitatore eh che ho mai visto eh comunque ho paura mi sa che mi sa che ero spaventato dai suoni i rumori dell'isola ma io so che ma io non so ma io non so ah ma io so che non verrà rotto non ho capito poi andiamo giù comunque no niente eh comunque eh comunque eh sentiti libero di prendere eh gli oggetti che ci sono in questa cesta eh spero che ti aiuterà spero che ti aiuterà spero che ti potrà ti potrebbero aiutare ti mostri ok ti potrebbero aiutare vabbè lascia qua dentro un po' di roba e poi andiamo di sotto si lascia un po' di roba importante perchè ma sei nuovissimo esatto anche l'osso l'osso importantissimo una scherza aveva centinaia che tanto per se tre sovini lo prendi non li prendiamo non ce la voglio tornare se con me ci ci sono i luoghi e sono sicuro rompirono è nato un po' entrare allo con quelli che dovrebbero avere i mostri i bug fix ma ma mi c'è nato l'accia p m s s s s s s s s s x ed è buio d sm s s s s la pala non ce l'ho la pala che impane non capisco scava molto eccola la gente arco 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 l'arco fortissimo asciutto con calma cosa qua? spada torcia cibo palle tutte quelle carmonelle cibo vi sono bella c'era uno spazio infatti non era proprio piatta l'isola che cazzo che sto facendo? calma calma rompo dai siamo armati rompi anche le cartone vai inizia a buccare vedo cosa trovi a parte il vuoto sotto vai vai beh adesso siamo abbastanza armati non dobbiamo perdere questa paura oddio 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 questo cristo di merda c guarda per terra quando vai avanti d d d muoviti vai le cose importanti le lasciate ok vai vai escono qui non lo sono per che esponimo appunto oh vai un po' più adesso gigiotto forse è una certa noi siamo saliti un po' dall'altro lato forse è una certa attenzione ti spona al corrispettivo in avanti non lo so un arco fortissimo un po' di mandi vabbè dire che mi sa che sia la vita di giusto sì però volete un obiettivo adesso non prendere tutti tutti le armi prendi soltanto i miei amari tanto mi ha trovato i porti no ma soprattutto non ho fatto niente ma allora si può fare montare se faccio ma no 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 si si via vai comunque comunque microfoni adesso la stanza la vedete quando esce venerdì cioè sabato esce non lo facciamo venerdì ma esce sabato non lo facciamo con quelli tu oggi rischi parecchio stai proprio va piano va piano e vabbè comunque oggi mi ho fatto un po' visore adesso la palla sarà per noi collegare tutto perché abbiamo il ponte dell'altra volta un po' questo ponte qui e il ponte dell'altra quindi inizia un po' di lavoro siamo tornati e abbiamo posato gli oggetti si abbiamo preso gli oggetti da lavoro la lavatura da operaio oggetti da operaio bene pensiamo oggi mettere cose di ferro perché ci siamo accordi che davanti lo passano quindi già ne ho visto uno di ferro e già ne ho visto uno di ferro questa fila qui intanto si ne ho fatto un bel po' perché abbiamo un bel po' un po' di roba e poi iron e iron ecco di molto bene quelli di ferro anche quello su così tanto quelli di ferro ci mancavano veramente si e meno e due finito adesso il corrispettivo da un altro lato e mi sa che ce l'ho usato se comunque eravamo messi tutti quanti erano 9 9 eravamo messi questi eravamo messi 5 quelli di oro mi sa che sono finiti tutti c'erano smeraldi qua è sicuro no no bisogna chiudere qua dove in cima non c'è niente no non c'è niente no di là sicuro no dove è che il ferro così no non c'è niente adesso dall'altro lato guarda messo tutto ferro è finito ok bene manca i più rari ovvero smeraldi e diamanti la pislascia la pislascia li abbiamo fatti sicuri che ho qui ma in mezzo cos'è tutti diamanti ah no smeraldi dobbiamo fare un bel po' di carbone diamo diamo diamanti cazzo adesso i diamanti sono sei diamanti i diamanti non li dobbiamo più toccare mai più e poi verso gli ultimi episodi ancora io parlo sui ultimi episodi ma vabbè qualche metti qualcosa nel jukebox c'è già c'è già il disco dentro devi solo rimetterlo senza farlo volare che che cazzo succede no no è là è il mio disco è il mio disco lo avevo finito o fa cagare? ce la puoi fare? no basta ragazzi è penoso vabbè vabbè adesso mettiamo sempre questo a fine così vi intrestite per questo episodio può essere tutto quindi mi raccomando se non l'avete ancora fatto iscrivetevi e lasciate un bel mi piace per supportarci e farci crescere e poi vi proponeremo una cosa come streaming nuove serie e tante altre cose che sì vi raccomando commentate se avete posito il video ciao a tutti dal 2 di 4